Con il mister Salvatore Sorce, Mussomeli, Dattilo 2-0, mister? Una vittoria fondamentale per continuare a sperare per una salvezza diretta. Oggi era fondamentale portare a casa i tre punti. Nel primo tempo è stato molto contratto per la post-impario della partita. Però nel secondo tempo i ragazzi sono entrati con un video diverso, con più voglia, con più grida. E abbiamo potuto a termine la gara, secondo me, pure meritatamente. Devo ringraziare i ragazzi, uno per uno, perché la forza della nostra squadra è proprio il gruppo. L'emblematica è stata il raddoppito e hanno costruito bene Faile e ha concluso bene Diego Rizzoli. Quindi siamo soddisfatti e con questo gruppo, con questo spirito, possiamo lottare fino alla fine per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta. Adesso con la classifica, mister, come siamo? Siamo là, siamo ancora tutti là, molte squadre ancora non ho visto i risultati alla classifica, ma siamo tutti là. Era importante vincere oggi, l'abbiamo fatto e quindi adesso continuiamo a vedere il campionato e le rimanenze delle gare con più ottimismo. Grazie mister. Prego. Grazie a tutti.